Siamo proprio davanti alla croce di Lampedusa, qual è l'immagine che le è rimasta di quel 3 ottobre? Il 3 ottobre è stato un giorno che ha cambiato la vita da Lampedusane, ma ha cambiato anche la mia vita, devo dire, perché quel giorno abbiamo dovuto assistere, a parte aver salvato quei pochi che siamo riusciti a salvare, ma poi abbiamo dovuto assistere all'arrivo di tanti cadaveri, 368. Perché tutto questo? Quale reato hanno commesso per meritare questo? È un'immagine indelebile quella rimasta nella mente del medico lampedusano Pietro Bartolo, testimone di una delle più gravi sciagure marittime del nostro tempo. Il naufragio di un'imbarcazione partita dalla Libia provocò la morte di 368 persone. Pietro Bartolo è stato protagonista del documentario Fuoco a mare, vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino ed è autore del libro Lacrime di Sale. Per ascoltarlo sono arrivati in tanti alla sala razzi del Collegio Alberoni. Cosa intende per intervenire con determinazione? Intervenire in che modo? Beh, intanto intervenire nel modo di evitare di farli morire significa non fargli mettere un piede a mare. perché gli unici che hanno avuto vantaggio, che hanno avuto vantaggio delle attività che sono state interprese dall'Italia con Mare Nostrum e con Etefraeton e Sofia, tutte quelle operazioni di grande civiltà, io dico, lodevoli, in realtà chi ne ha approfittato tutto questo sono stati i trafficanti. La strada giusta è quella di andare dall'altra parte e farli arrivare in sicurezza senza farli morire perché è questa la cosa più importante, evitare tutte queste morti. Quindi andarli a prendere e portarli qua? Beh, sicuramente, lo fa Sant'Egidio, la comunità di Sant'Egidio lo ha fatto ripetutamente, lo ha fatto il Papa, certo in maniera simbolica, perché non lo può fare l'Europa? In considerazione del fatto che ci raccontano tante bugie, purtroppo, che terrorizzano la gente è per esempio quella di dire che c'è un'invasione epocale, ma non è vero niente. Quindi sono dei numeri che possiamo sicuramente accettare, che possiamo accogliere e che possiamo integrare. L'incontro è stato organizzato da Svepe La Ricerca. Al dibattito hanno preso parte anche i giornalisti Gian Giacomo Schiavi e Lorenzo Bianchi e la giovane ginecologa piacentina Benedetta Capelli.